Salve a tutti da Ingeviati, adesso ci troviamo su uno dei simboli della città di New York, il ponte di Brooklyn, che collega Manhattan appunto a Brooklyn, due distretti diversi. È stato per molto tempo il ponte sospeso più grande del mondo, attualmente lungo 1825 metri, e venne inaugurato nel 1883, è sicuramente un luogo imperdibile, arriva anche alla metropolitana qui, è uno dei posti da visitare assolutamente, e il primo fu anche il primo ponte in acciaio, costruito in acciaio. Si trova nella parte sud, quindi siamo a downtown, non lontano da Ellis Island della Statua della Libertà, così come da Wall Street, dal Memoriale dell'11 settembre, quindi è possibile mettere insieme tutti questi luoghi in un'unica giornata. Contrattata a Gioviati, per qualsiasi informazione, sapremo organizzarvi anche questo tipo di gita in questa particolare e affascinante zona di New York City. Da Bonte di Brooklyn vi salutiamo, a presto.